Calcio, il Gubbio ha annunciato di voler presentare il ricorso contro la decisione del Consiglio federale di martedì scorso con il format 18 squadre per la Lega Pro, Perugia, anche il Bari va a K.O. Alcure e oggi ufficializza l'acquisto di Zapata, Foligno, Guardo Casacastalle, Città di Castello, buoni segnali dalle amichevoli. Vole in B2, maschile Lagherardi, Città di Castello ha scelto Enzo Sideri come nuovo tecnico, Barton Cus Perugia dall'Aquila è fatta per il ritorno di Crotti, trofeo Fagioli, passerella di Ferrari per la cinquantesima edizione. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione sportiva da TRG, l'apertura con il calcio il giorno dopo la nuova bufera legata al calcio scommesse che solo indirettamente ha toccato il Gubbio. La società annuncia di voler far ricorso dopo le dichiarazioni in un primo momento da parte della società in cui si affermava la volontà di attendere con fiducia l'esito del processo che vede coinvolte per responsabilità diretta nella presunta combin della penultima giornata Teramo e Savona. La società di Via Parucina ha deciso comunque di ricorrere contro il format A54 squadre deciso dal Consiglio federale nella seduta dell'altro ieri appellandosi al fatto che la decisione presa va contro l'articolo 50 dell'organizzazione interna dell'ordinamento adottato dalla Lega Pro che prevede nuovi cambiamenti a partire dalla stagione successiva rispetto a quella in cui vengono disposti. Ieri intanto la squadra ha svolto un'altra doppio seduta dopo la comunicazione da parte della Vistorgiano di non poter scendere in campo, oggi di nuovo doppia seduta, intanto è arrivato in sede di ritiro il classe 93 Fabrizio Massimo Bramati, centrocampista in uscita dal Savona che sarà valutato dallo staff tecnico nei prossimi giorni. Il giocatore riduce da un campionato in chiaro scuro, appena 11 presenze e in precedenza Bellari ha collezionato sempre tra professionisti, 14 presenze sabato prossimo invece, dopo domani sarà il giorno di radi, il difensore, già in maglia rosso-blu due stagioni fa ha sciolto la riserva, è pronto a legarsi ufficialmente al Gubbio, per lui è pronto il contratto. Saliamo in Serie B nella seconda uscita, ieri al Curi il Perugia vince di misura anche contro il Bari grazie a una rete in apertura del difensore Volta, oggi intanto ufficializzato l'acquisto del colombiano classe 95 Alexis Zapata di proprietà dell'Udinese, già con Granada e Sassuolo, ma ripercorriamo intanto sulle immagini la vittoria di ieri, nell'amichevole un anticipo di campionato contro il Bari. È un grifo che vince e convince, dopo il Carpi al Curi tocca al Bari nell'antipasto del prossimo campionato di Serie B cadere sotto i colpi della banda di Bisoli, l'ex tecnico del Cesena opta per confermare il 4-2-3-1 ammirato sabato scorso con qualche novità a livello di elementi, come Zima titolare tra i pali, Rossi al centro con Volta, gli esordidi del Prete Alassane sulle fasce, grande chance per Filippe Mediana al Franco di Salifu con Lanzafame, Pariginetta Deia di ispirare Ardemagni. Nemmeno il tempo di prendere posto sugli spalti che il Perugia firma il vantaggio, Alassanda alla bandierina Pescavolta che si fa largo in mezzo a tante maglie baresi e batte Guarna. Il Perugia tiene bene il campo e tenta anche di trovare il raddoppio con il cross di Parigini, sul quale per poco non ci arriva di testa Ardemagni. Al 22esimo escono tuttavia per infortunio sia Ardemagni che Parigini, al loro posto dentro di Carmine Mendez con l'uruguaggio che si mette subito in luce, saltando salviato in area di rigore prima di sparare addosso a Guarna. Nel finale di tempo c'è spazio per un lampo su punizione di Rada con l'ottima rispinta di Zima in corner. Nella ripresa Nicola presenta un Bari più offensivo, tanto da creare la prima palla goal con lo scatto e l'assist di Boateng per De Luca, che prima calcia male e poi vede contratto il suo tentativo da volta con l'azione pericolosa che sfuma per i pugliesi. Il Perugia tiene botte rischia solo al 65esimo, quando Rosati deve respingere a distanza ravvicinata il tentativo di Sanzone. Passano 5 minuti e De Mendez a sfiorare il raddoppio dopo un'ottima giocata smarcante di Di Carmine. Tiro forte, ma impreciso. La gara si incanala nel finale, i paroni di casa si limitano a gestire il risultato, il Bari attacca con poca convinzione e alla fine la spuntano comotte e compagni. Il Perugia può dirsi pronto per la Team Cup con la Reggiana in programma domenica sera. Il successo vuol dire che la squadra quando esce a dato tutto vuol dire un successo, poi qualche volta si dovrà anche perdere perché poi non dobbiamo farci sempre l'abitudine, anche se è piacevole questa abitudine. No, ho visto secondo me un ottimo primo tempo, fino al 35esimo un Perugia molto pimpante, con delle azioni anche travolgenti, sfiorando in due o tre occasioni anche il raddoppio. Secondo tempo vuoi per i cambi anche anticipati nel primo tempo e vuoi l'innesto anche di qualche giovane. Abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto con grande compattezza, con grande ordine, con grande organizzazione. Restiamo al calcio, torniamo in Serie D, test amichevoli proficui anche per Città di Foligno, Guallo-Casacastalle e Città di Castelli. Falchetti si sono imposti 3-1 contro il Cannara con i sigilli di Ubaldi e Sposi dell'autogol del Rosso-Blu Gerarchini. Torneremo domani su questa gara. Test importante a Luzzi per il Guallo-Casacastalle, con la truppa di Emanuelli che ha superato 4-1 il Ventinella, mentre il DS Gagliardini sonda il mercato a caccia di un centrocampista esperto dopo l'addio precoce di Sireno. Nella lista dei papabili c'è anche l'ex rosso-blu, Simone Guerri. Debutto stagionale invece per il Città di Castelli, Calbernicchi ha saputo tenere testa al più quotato Arezzo con gli Amaranto che hanno vinto 1-0 solo grazie a un rigore generoso concesso dall'arbitre trasformato da Capece. Il volley dopo la conferma dell'inserimento nel torneo nazionale di B2, il presidente della Gherardi, Città di Castello, Pallavolo, Caselli, e il direttore sportivo Alcherigi si sono attivati per allestire una compagine che possa tenere alto il nome e i colori della città dopo la plurima retrocessione. La dirigenza bianco-rossa ha deciso di affidare la guida tecnica all'esperto allenatore Enzo Sideri che è rientrato in società dopo lungo tempo ha ricevuto dal DS Alcherigi anche la direzione tecnica di tutto il settore maschile. Nel campionato di B2 si avvarrà della collaborazione di Michele Menghi che così rientra in società dopo un anno di assenza a Menghi. Provato allenatore viene affidata la conduzione tecnica dei gruppi maschili under 14 ed under 15. Eccolo nella foto. Passiamo al rugby perché l'ala Lorenzo Crotti torna al Cus Rugby Perugia. Il giovane classe 94 cresciuto nelle fila del settore giovanile bianco-rossa ha fatto parte della squadra della Barton nella stagione della vittoria del campionato di Serie B. Successivamente è stato convocato in Accademia a Parma per poi giocare nei Cavalieri Prato e l'Aquila in eccellenza. Il suo ritorno a Perugia segue quello di Tommaso. Sportolari prosegue la campagna di rinnovamento all'insegna dell'inserimento di Atleti Umbri e Perugini in particolare voluta fortemente dal presidente Fioroni. Chiudiamo con i motori. Si avvicina l'appuntamento con la 50esima edizione del trofeo Luigi Fagioli che quest'anno si arricchisce di un'ulteriore iniziativa. Iniziativa infatti nel weekend della crono scalata dal 21 al 23 di agosto crono scalata valida come decima prova del campionato italiano velocità di montagna sarà in città un raduno Ferrari con alcune decine di supercar made in Maranello di ogni genere da tutta Italia che sfileranno sul classico tracciato che sale da Gubbio a Madonna della Cima precedendo le masce di prova e gara. L'iniziativa sarà resa possibile grazie alla collaborazione con Comune di Gualotadino Comune di Sigillo, Birraflea l'azienda Gubbina CVR la concessionaria Ferrari del gruppo De Poi insieme al comitato Gubbino Corsa Automobilistica e la cooperazione di Adriano Mori al volante di una Ferrari 458 Italia che sarà tra gli appassionati che sfileranno. E' l'ultima notizia del nostro TG che si chiude qui l'informazione sportiva dopo la replica di questa sera e prima ancora in replica dalle 20 alle 21 sul canale 111 vi segue sempre sul sito trgmedia.it vi parleremo di sport domattina con la rassegna stampa dalle 7.30 grazie per l'ascolto e buona serata. grazie per la visione!